Ciao ragazze, ciao ragazzi Ciak, la ventunesima volta che ripete Ciao ragazzi, ciao ragazzi, io non ce la faccio più No, io non ce la faccio più, è colpa tua Tu non avevo, tranquilli, tu fai quello che vuoi Io sto qui, andiamo già a schasseggio un po' Ma hai giardinato la pizza? Questo, questo viene qua Tutto pagato, vinto, alloggio, gratis E si lamenta che c'è poco da mangiare Ma Mugbang questo, Mugbang Non è un Mugbang, è un Q&A Allora, ciao ragazze, ciao ragazzi Benvenuti ad un nuovo video Scusate, siamo già un po' ubriachi Stiamo per filmare Vi ho detto che presto avrei filmato un nuovo video Question and answers Q&A Con Neil, il nostro ospite super speciale Grazie per partire con il nuovo video Tutto il pubblico è stato un buon Quindi vi ho chiesto su Instagram Quali domande volevate farci Alcune sono per entrambi Alcune domande sono solo per me Alcune sono solo per te Ah ok Ed ho pensato Sono diventato geloso Di che diventare geloso? Perché? Del personale che ti chiamano solo te Sei tu il youtuber adesso? Sono il guest Special guest Comunque per rendere il tutto un po' più frizzantino Ho deciso di fare un aperitivo Mentre risponderemo alle vostre domande E' un po' più frizzante Così frizzante Oh Dio Anil è già andato in testa per un bicchiere Scusate No io con il vino ho messo male C'è super arcoici Tengo un di tutto Però Sì certo come no Sì sì Calma cassolini No non era quella È tranquilla Non era la cassolina Io non ce la posso fare Ad arrivare a fine video Ma non ce la posso fare Non avevo danni da bere Prima di iniziare questo video E questo è poco da mangiare Non è poco Ci sono le patatine Cosa vuoi scusa Mi sembra Mi sembra Da un youtuber C'è una superstar Che offre questo Una superstar di che? Però Noi dei nachos C'è una cosa semplice Un po' di sifiletta sopra Un po' di pomodoro Ancora mosti nachos Scusa Questo per me sarebbe un piatto gourmet Ti pare più di questo Perché io mi ho detto Per preparare È rubituato queste cose Ci vedete che adesso non lo fai più Io lo vedo nile ubriaco Scusatelo Vi chiedo scusa C'è un anticipo Non lo vedo C'erano tre qua Scusatelo scusate Iniziamo con le domande Devo condurre io questo video Perché qui vedo che Appunto siamo massimali Dette che iniziamo con quelle easy O quelle tipo hot Noi facciamo solo quelle hot C'ho già cano Aspetta che mi spoglio No Ricordo più bello insieme Ci dovrebbe essere intanto Scusa Cosa significa Ci dovrebbe essere intanto Non hai un ricordo bello con me Guarda che rapporta Sai dove la portare No perché ti c'è compagno Ma questo video Lo possiamo farlo Tipo prima che vado via No caro Lo facciamo Adesso sei appena arrivato Quindi se ti comporti male Perché devi fare finta Non mi vuoi bene Perché in realtà Lin mi vuole super bene Mi chiama sempre Mi sopporta Mi ascolta per delle ore Io ascolto lui per delle ore Quando lui ha i problemi Quindi noto che fai finta Che non mi vuoi bene Perché Perché ci vogliamo bene Adesso di la verità Il ricordo più bello che hai Oh santi dio Abbriaco perso Povera Allora dico io uno Così Uno dei tantissimi ovviamente Che non è niente di che Cioè la prima cosa Che mi viene in mente Ce ne saranno altri migliaia belli Allora Uno ricordo quando Prima di tornare a casa Tipo magari Io mi prendevi Tipo i fiori O come oggi Che tu fai sorprese Così Nile molto gentleman E fa sorprese Proprio per il gusto Di farle E quindi Quando mi ha La verità è un'altra Però dopo ve la spiego Quando finisce Oddio Quindi non è un bel ricordo No Il fatto dei fiori È un altro discorso Che mi piace fare Proprio Cioè Nel senso Vado Il fioreaio Cioè Guardo proprio come crea Questo bouquet Queste cose qui Cioè Mi fascina un casino Ecco Infatti Perché allora devi dirmi No c'è qualcos'altro Che devo dire Adesso ho paura Io lo faccio per me Oppure Oppure Un'altra Ma cosa vuoi dire Io lo faccio per me Quindi ti regalo i fiori Ma un fior Regalo a te i fiori Per lo colpire Ma non mi faccio da sola Ma che cattivo che sei Cioè sì Però non è bello Ma non lo voglio interrompere Cioè No Poi volevo dire un'altra cosa Non la dico più No Sì Non la dico più Perché tu dici Dai Ecchiamo così Tu dici che non c'è niente di bello Che l'unico ricordo bello Che c'ho Che non è un ricordo bello Che devi aggiungere qualcosa di brutto E allora adesso basta No Un altro ricordo bello Volevo dire che quando Mi ricordo che eravamo Nella casetta In campagna Là di mio papà E che caricavamo Tutte le robe sul furgone Per andare a vivere in Olanda Cioè questo ricordo Comunque era bello Ricordo che abbiamo fatto Le foto ricordo Tipo Prima di partire Col furgone Un ricordo bello Ma è legato Un po' Un momento di amicizia Cioè adesso Quando siamo andati A Amsterdam Quindi dopo che ci siamo mollati Perché No no Prima Eravamo ancora assieme Dai No ma non a Amsterdam A vivere Ma a Amsterdam In ferie Ok Siamo andati con I nostri amici Eravamo tipo In un posto isolato Da Amsterdam Perché non era proprio In centro Ma era un po' fuori Eravamo studenti Sguattrinati Io alle superiori Sì perché Alla fine All'epoca Siamo andati ad Amsterdam A Trieste Anzi Da Ljubljana Con l'autobus 25 o 27 ore di viaggio Erano 16 dai No non è vero Era una cosa infinita Cioè Una cosa quasi illegale Non dovrebbe esistere Non è vero Ma scusami Scusami Questo è il tuo ricordo No Il ricordo più bello È proprio la serata Che abbiamo vissuto Che alla fine Non siamo Ma non ci sono io C'è tutto un gruppo Di persone No c'è di te Mi ricordo più bello Che ho con te E con altra gente Ma grazie No 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 Ma grazie C'è il cine Veramente E adesso capisco Vero voglio filmarlo Prima di andare via Questo video Perché anticiperemo La tua ripartita No è difficile Trovarne uno Perché ce ne stanno tanti Però non è Manco uno Ok Bellissimo Qual è il consiglio Che dareste all'altro Allora il consiglio Che ti darei Tagliati i capelli No No perché te li taglierò io Al di là Del fatto Tagliati i capelli Perché non si può vedere Però un consiglio Che ti darei È di ascoltare Sempre Le tue sensazioni In linea generale Sempre le tue sensazioni Però tu sei più bravo A dare consigli a me Quindi probabilmente Forse dimmi tu Quale consiglio daresti a me Un consiglio Ma un consiglio Che darei a tutti E No a me lo devi dare Perché Perché mi stai rinnegando In questo video Non mi calcoli A te non è specifico Sì E scusa Lo darei a tutti Che darei a dispensare consigli Lavoro di meno E godi di più la vita Boh Grazie Adesso tutti a dire Ma se non fa niente Dalla mattina alla sera No vabbè Nils sa che orari faccio Eh Ok Intanto la sera Cosa vi manca di più Della vostra relazione E cosa meno Forse Devo dire Mi manca il fatto che Però non è che mi manca Cioè comunque Ci sei sempre per me Cioè stavo per dire Il fatto di poterti chiamare In qualsiasi momento Che ci sei Però Paradossalmente Anche se sei Lontano Che vivi a Bologna Io vivo ad Amsterdam Se ho bisogno ci sei Quindi questa cosa In realtà Non posso dire che mi manca Perché ci sei Forse anzi Andiamo più d'accordo Se mi spetterai Fino alla fine Della Vacanza Sì Se mai Potrà rimanere qua Questo quindi paradossalmente Andiamo più d'accordo adesso Piuttosto che quando stiamo insieme È una cosa che Non mi manca per niente È che Neil Perdeva sempre tutto Chiavi di casa Portafogli Ma dai che ti divertivi No non mi divertiva C'era sempre un po' di suspense Cavolavo di brutto Poi trariamo a casa Non ha la chiave Mi ha fatto perdere Il volo per Amsterdam Mi ha fatto perdere Il treno per Parigi Per un piccolo errore Neil Neil hai lasciato Neil hai lasciato La carta di identità a casa E sei andato in aeroporto Senza portafogli Sì ma Non ci hanno fatto imbarcare Perché non avevi il documento Ti rendete conto E sua mamma Poveraccia Che si è fatta due ore di macchina Per accompagnarci E altre due ore di macchina Per ritornare a casa E tutto per niente Perché tu C'è stato un disguido La sera prima Perché la sera prima Non so come mai Chi ha deciso Di cambiare zaino Tu ti ricordi male È successo lo stesso giorno Ed era la borsa Lo stesso giorno Sei venuto a casa mia Hai deciso di lasciare La borsa Che ti hai ripreparato Ti sei preso uno zaino Un'altra roba Che avevi a casa mia All'epoca dove abitavo Con mia mamma Sì ho capito E ce l'hai lasciato Io ce l'ho tutto pronto Io ero così organizzata Che ce l'ho tutto pronto Un switch così casuale Come il sliding door Cioè Pa pa Doveva succedere Sì ma non è successo Solo quella volta Poi dovevamo andare Anche a Parigi D'Amsterdam E ci sono tanti sliding door Nella vita Non è che ci sono uno Nel film succede una volta Nella realtà Nella vita reale Cioè se volete Se volete Un fidanzato pesci Sono molto sensibili Molto dolci Gentlemen Però ragazzi La testa La testa sta D'un'altra parte È poco questo ciuffo Hai fatto Hai detto che avresti fatto questo L'hai fatto Eh Cioè Ecco Però Però è una cosa che Potete capire che Da scorpione Ascendente scorpione Io sto impazzivo Con sta storia Adesso Quando mi dici Che hai dimenticato Le chiavi di casa Che hai perso il portafoglio Ma che l'ultima volta Nel ho perso il portafoglio E gli hanno telefonato Sul lavoro Sul lavoro Cioè Mamma mia Cosa è successo due settimane fa Ecco Lì ho pensato Ah che bello Che non stimo messi Perché mi caspo di brutto Però ritorno sempre Per adesso Il portafoglio è ritornato sempre È vero Tu ritrovi sempre tutto Cioè A questo giro Ero quasi sperato Ho detto Ma cavolo Non ritorno più Dopo due o tre settimane Nessuno che mi chiamava Cioè Ero quasi basito Cioè Nel dorme sul divano Quando viene ad Amsterdam Nel non dorme Che male Che alle 10 Sta così Sì Nel dorme sul divano Ragazzi È comodo il mio divano Comodissimo Sei contento di essere passato Il problema è che ogni volta È stato declassato No vabbè Ogni volta Me lo dimentico Che il suo divano È così comodo Che io dopo due o tre giorni Ho un mal di schiena Poi L'ultima volta Che sono venuto da te Pensavo Cioè Ho detto Ma come mai ho un mal di schiena Ma pensavo che andavo Siccome andavo Quei giorni lì Perché comunque era Bel tempo Andavo a giocare a basket Mi piace che aggiungi dettagli Stavo che era Che la coppa Di le basket Che magari ho preso Troppe botte Cioè nel senso Invece no Dopo ho ricollegato la cosa Neil Hai voglia di tornare in Olanda? Ti piacerebbe Te lo chiedo lì in tanti Ti piacerebbe tornare a vivere in Olanda? Sì Potrebbe essere un'opzione Allora Lui dice Cioè No non qua Non a casa mia sicuramente No ma lui dice Però no I primi cinque mesi Poi Cioè Cinque mesi Cioè I primi cinque Sei di contrario E l'alcol è Cioè L'alcol è detto No i primi cinque mesi E dopo sì No Invece l'alcol è il contrario Sì cinque mesi E dopo forse no Non ho ben capito Che cosa intendi Se vuoi trascriverte C'è la mia C'è la mia C'è la mia C'è la mia A parte gli scherzi Quando siamo venuti qua assieme Mi sono nominato di questa città E E E sono ancora E adesso io ci sto E te no Ah Quindi seriamente Ti piacerebbe Veramente Sì La città è bellissima Vi consiglio di venire A visitarla Magari Ma hanno capito Che la città è bellissima E ti consiglio di guardare i musei È stupendo Però voglio sapere Noi musei I parchi Piste ciclabili Sono queste le cose fighe Sì Ma no ma Intendevo Loro dicono Se tu mai Potresti Prendere in considerazione L'idea proprio Di trasferirti qua Te lo dico Perché ci sono tante Tante domande simili Hai fatto qualche video Su Instagram Come trasferirsi Così magari lo guardo Ma perché ti serve La tua risposta Definitiva Sì La accendo Sì cosa Sì Vorrei trasferirmi Davvero C'è mi farei piacere Ah no Sì c'è questa roba C'è che mi farei piacere Ma se hai tutto a Bologna A Buenos Aires Vabbè ragazzi Io ci provo Ci sono due tre posti Io ci provo ad essere seria Oh c'è una gatta dietro Ciao gatta Io ci provo ad essere seria Però è impossibile Neil che lavoro fai a Bologna? Lavoro in ufficio Molto generico e vago Ma lavoro in un ufficio Sì vabbè Però di verità Mi piace lavorare anche Smartworking Ragazzi Se mi date un smartworking Scusami Adesso in questo momento Stai lavorando in smartworking? Neil che ponderà Ci sarà il mio capo In questo libro Aspetta che ora è? Non c'è un ruolo dietro No Non diciamo che ora è No ok Quindi non si sa Qui è chiaro Fine dieci E sono in pratica Già le nove Ragazzi togliamo ci sta domanda Da subito Perché io non ce la faccio più E un anno che io e Neil siamo tornati a vederci Forse un po' più Forse un po' più di un anno E un anno che ci frequentiamo di nuovo E Neil Oh notizia show Notizia show Neil lo fa apposta Per confondervi In modo che voi Non è vero A te a scrivermi queste robe ragazzi Non è vero Per quanto mi riguarda Io gli voglio tanto tanto bene Io sono cresciuta con Neil Voi dovete immaginare Che io Neil l'ho conosciuto Che avevo bene o male Appena fatto 16 anni Lui andava a scuola Con la mia migliore amica Anche io ero minorenne Ma che significa? Certo se hai un anno e mezzo più di me Ma quello che vi voglio far capire È che siamo Io sono cresciuta con Neil Cioè le mie prime esperienze Il mio compleanno Quando sono diventata maggiorenne Cioè anche il compleanno di 17 anni L'ho fatto con lui Cioè Neil mi conosce veramente Come poche poche persone In questo mondo E non avete idea Quanto litighiamo eh Ma non è vero Litighiamo di più Beh ogni tanto mi arrabbio io con te Lei si arrabbia così? Cioè ok Non ti voglio più sentire Sparisci per una settimana due E dopo Dopo tutte le settimane Come niente Come niente fosse Ehi Johnny Cioè sai che ho avuto casino Con quei lati Non so cosa fare Cioè aiutami Ah ok Vabbè tranquilla A posto Sì ti do una mano Ma è tranquilla Parla quello che vuoi Questa cosa Che anche se ce l'abbiamo Dopo ci sentiamo Per me è una sorella E io lo ripeto Ve lo dirò sempre Cioè io la vedo come una famiglia Come una parte della famiglia Lei non tanto Però vabbè Come io no Perché? Scusa Perché ti invito qua? Perché ti cavoli Come è? Sparisci Cioè come Vabbè Vabbè Fratello e sorello Uguale Uguale Tu hai tanta pazienza Adesso che non stiamo più insieme Però quando stavamo insieme Ero io che avevo tanta pazienza Che aspettavo sempre Che tu ti rifacevi vivo Perché niente Se ne andava Non si faceva vivo Per settimane Giorni e settimane Io stavo male Piangevo E adesso hai un po' di minimo Di karma Che ti torna indietro No sta dicendoti Che non è vero E la gatta che mi difende Grande gatta La gatta è venuta ad esprimere Il suo dissenso In tutto ciò Procediamo con Non so se si sta capendo qualcosa Da questo video A parte il fatto Che siamo ubriachi Siete rimasti amici E su questo non abbiamo dubbi Ormai Le mie follower I miei follower Sono così Quasi Vengono i brividi Siete rimasti No perché I miei follower Sono molto sentimentali Ma c'è senso Ma smettila Siete rimasti amici Su questo non abbiamo dubbi Ormai Ma nel profondo del cuore Cosa provate Odio amore Molto fastidio Perché questo qua Viene qua Non prende mai Il biglietto di ritorno Quindi so quando viene Non so quando Se ne va Capite perché Io non posso trovare un fidanzato Io non posso trovare un fidanzato Come faccio a trovare un fidanzato Che ho sempre il mio ex a casa È difficile descriverlo Perché comunque anche per me È una cosa nuova Non avrei mai pensato Che sarei potuta rimanere In buoni rapporti Con il mio ex È capitato Il ex L ex Ah tu sei L'ex Non sei un ex Sei l'ex Ok diamo importanza Giustamente L'ex Neil Come l'ex Luther L'ex Neil Questo è quello che provo Cioè sono contenta Che ci sia Neil Nella mia vita Perché io augurerei a tutti Di avere un Neil Nella loro vita Che viene in stazione Per me a Bologna Perché sa Che ho mal di schiena E ho la valigia pesante E mi accompagna Da un binario all'altro Per non lasciarmi sola Quei 20 minuti E per non Cioè per aiutarmi Anch'io Per una Nicole Che mi ospita Per 2-3 settimane E quando mi trasferisco Altri 5-6 mesi E ye Io adesso Non l'ho mai detto Non l'ho mai detto Come hai fatto anche cincina No no Hai fatto anche cincina L'ho visto Io ho fatto così No cincina ho fatto solo Io non l'ho mai detto Questo Ha fatto anche Ti vanno a pancrimare No 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 Aspetti Questa parte Mi odio e amore Questo Sto mix Sto mix di emozioni Che si mix tra Odio e amore Cioè un momento Vuoi mandarmi a E un momento dopo Invece vuoi abbracciarmi Sì Eh quasi Rispecchia un po' Il mio segno zodiacale Devo dire Poi Siete dei scompioni Cosa? La fidanzata di Neil È gelosa del vostro rapporto? Beh bisogna dire Vai Vuoi dire Quello che vuoi intanto No io non voglio dire niente No Allora c'è da dire Che Neil aveva Una fidanzata Che a me piaceva un sacco Con cui io vado d'accordo Ed è una ragazza meravigliosa Poi tu che sei un cretino L'hai mollata Perché sei cretino Io gliel'ho detto Dal momento uno Perché la molli Che è una ragazza Adoro È bella Seria Anche molto giovane Cioè Molto giovane Giovane Più giovane di me Cioè dico Perché la molli Perché sei deficiente L'hai mollata E hai fatto sta gran cagata E poi te ne sei pentito Vabbè E io l'ho aiutato Non ha passato un bel periodo Poi c'è stata un'altra ragazza Adesso diciamocela tutta Che effettivamente Era molto geloso Cioè neanche la roma Però il fatto è che io e Neil Cioè non c'è nulla Tra di noi Cioè non c'è Non c'è niente Quindi come fai Ad essere gelosa Del nulla C'è da dire Che poi ha anche Ha avuto una ragazza Che effettivamente Non le andava giù Il fatto che Noi siamo amici E Neil cosa ha fatto? Ha lasciato Nicole Neil praticamente Era mollata No di realtà Lei ha mollata Ma semplicemente Perché io Sì ma per il nulla Perché tra di noi Non c'è niente Cioè non ha senso Cioè anche io Qualsiasi ragazzo Frequenti Lo sa Cioè veramente Lo sanno Che ho il mio ex O il mio grande amico E devono capirla Sta cosa Cioè appunto Poi io Perché non facciamo Niente di male Cioè Poi io capisco Cioè magari mi metto Nei panni degli altri E capisco Magari che l'ex Può essere problema Perché magari Boh c'è sti dubbi Bla 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 Ma il dubbio Te li fai venire Per il nulla Perché non c'è niente Cioè Però alla fine Se ammi la persona Se la persona Comunque ti ricambia L'amore Se c'è comunque È un Non so Non so Un Anche Mier Cioè nel senso Tu condividi Le tue cose Le sue Cioè Queste cose qui Non dovrebbero nascere Mai Cioè Se tu hai qualche Dubbio Sulla persona Perché hai dubbi Su di te Cioè sei sicura Tu Infatti Lila adesso È di nuovo Single Cioè si Si diverte Dicevo così Si diverte in giro Anche stasera No Stasera Stasera Stai con me Sì No Stasera stai con me Nil va Nil viene qua Dovete sapere Nil viene qua Perché si è iscritto A una scuola Di danza Qui E Perché ogni sera Prende Se ne va E va là E mi molla A me da sola Bravo eh Bravo sai Grazie Se in Italia Sono limitato Vado a lei L'estero Provo la fortuna L'estero Eh approfittiamo Della casa Della ex Così mi piazzo La e poi vado In giro Fare le mie serate Ti lascia anche Il tuo spazio Per trovarti No Mi lascia anche Il mio spazio Ma pensa A te Ma pensa A te Che generoso L'altruismo Di questo ragazzo Io veramente Non ci posso credere Nil si confida Con te Sulle sue relazioni E tu Sì tantissimo Perché dici Di no Non è vero Il mi chiamava Disperato Quando stava male E io chiamo Lui disperata Quando sto male Quindi assolutamente Sì Anzi Ma Mi ha detto L'ultima Per esempio Si lamentava Perché condividevo Così tanto Con la mia ex Le cose Mi serve Un consiglio Che io faccio Che chiedo A una persona Che mi conosce Esatto Boh vabbè Poi c'era anche Da dire Che quella Era una mezza Pazza Che abbiamo Fatto Una videochiamata Con un'altra Amica Che abbiamo In comune È andato fuori Di testo Ma a me Le pazze O comunque Le particolari È a lui piacciono le pazze Quindi stai attento Che mi stai offendendo Comunque Adoro perché Ad un certo punto Sta zitto Non c'è più niente Esatto Se mi dici Che ti piacciono Le pazze Mi stai dando Della pazza No Quelle particolari Speciali O diverse Adesso Dice speciali Prima pazza La solita pacchia Diciamo Mi sembra Mi piacciono Qualcosa più Di Le relazioni Tossiche Ci piacciono Le relazioni Tossiche Noi Quelle che Ci stai sempre Male Quelle con un po' Di brio Sì Con questo prosecco Non viene così Senza parole Hai fatto difficoltà Ad essere amico Di Nicole Senza che La trazione Si mettesse Di mezzo Ovviamente Per te Eh Eh beh Sì Se ti chiedono No perché Quella Ormai Anzi Il potere Collegare di nuovo Con Nicole E il fatto Che non c'era più Trazione Era proprio Quel discorso Di non c'era più Trazione Ero libero Diciamo Nel potere Affrontare Un altro capitolo Mi ha visto In determinate occasioni Che ero veramente Messa malissimo Quindi praticamente Qualsiasi attrazione La perdi Tradotto Sì Chi dei due Ha fatto il primo passo Per riallacciare i rapporti E tornare amici Questa è molto Molto gettonata E qua risponderò io Allora Che io non mi ricordo Non mi ricordo io Allora Neil Praticamente Quando ci siamo lasciati Cioè quando Lui ha lasciato Io so dove Allora Quando lui mi ha lasciata Per poi pentirsene Subito dopo E io ho detto No Dopo mezzogiornata Non è che È passato il secondo tempo Mi hai lasciato Dopo due ore Ti sei pentito Ma ormai Io ti ho detto Sai che Ok E È un scorpione Mi raccomando Ascendente Voi ragazzi Prendete note Poi Tu ti sei pentito Ma qual era la domanda Scusa E poi Neil è andato avanti A scrivermi Per diversi mesi E io non rispondevo Perché Non rispondi più Lui mi scriveva cose Tipo Io mi ucciderò Cioè non sto scherzando Tu mi hai scritto Adesso la mia vita è finita Dopo Stranamente Dopo un mese Mi ha mandato un altro messaggio Dicendo sto bene Quindi effettivamente La sua vita non era finita Ragazze Quando mi dicono La mia vita è finita La faccio finita Non è mai vero Non vi preoccupate Vivo Non sempre benissimo Importante Però Stai zitto Però Dopo Dopo Lui ha continuato a scrivermi E io non gli ho mai risposto E dopo Ascoltate Ascoltate Poi ragazzi Ascoltate questa Anche ragazze Doveva passargli Doveva passargli Quindi non gli rispondevo Perché gli doveva passare Però ascoltate Poi Lui si è rifatto vivo A dicembre 2018 Eh Sì Per il mio compleanno Novembre 2018 Non gli ho risposto Si è rifatto vivo A dicembre 2018 Per farmi gli auguri Di Natale E mi hai scritto Magari adesso Che siamo sotto Natale Sei così buona E mi rispondi E io non ti ho risposto Perché Ero in una relazione E non mi sembrava Bello Verso il mio partner Dell'epoca Ma Sempre quel discorso Dei ex Ma quando ci sono stati Diciamo Poi quando sono diventata Single O comunque nel periodo In cui mi stavo lasciando Gli ho risposto Nel momento del bisogno Tac E' vero Quindi Nel non l'ha mai smesso Iscrivermi L'ha smesso per un periodo Poi mi ha riscritto Non gli ho risposto Subito Gli ho risposto dopo un po' E da lì ci siamo sentiti Sua mamma Che carina Quando ci siamo rivisti Dopo tutti gli anni Io adoro sua mamma Ci vogliamo super bene No io amo tua mamma È fantastica E Mi ha fatto Mi ha fatto troppo ridere Che quando ci siamo rivisti Eh Lei cucina benissimo Io mi sogno Le succede Boh E quando ci siamo rivisti Mi fa troppo ridere Perché è venuta con le foto Di quando io e Nila Avevamo tipo Lui vent'anni Io diciannove Diciotto Guarda quanto eravate carini Io ancora le foto Di voi due Cioè Io veramente In my heart Cioè L'ho proprio Io vi dico adesso perché Non odio mia mamma Ovviamente le voglio bene Solamente perché mia mamma Ma Una scena No non parlare male Di tua mamma eh Una cosa Dico subito che mi arrabbi Vi racconto una cosa Cioè io Io stavo malissimo Ci siamo lasciati Bla 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 Oddio Adesso comincia Torno Torno a casa Di mia mamma Oh sti pesci Le loro emozioni Torno a casa Di mia mamma Reprimile come noi scorpioni Reprimile Emozioni Via Via Torno a casa Di mia mamma Cioè Già Già lei Comunque Una persona Social Cioè nel senso Famosa nei social Ovviamente la potevi trovare Dove volete Vabbè S'era tua mamma No no Sì te Te eri famosa Ben male Diciamo Ero Ero giusto Uno quando Quando stacca Non è che dopo Vede l'ex No Però io comunque Tra l'olette Avevo la possibilità Di vederti Seguiti su youtube Instagram E così via Che era Che era Un dolore Per me No addirittura Ma sì perché Scemo ovviamente Andavo a vedere Se me la cosa fa Dove va Cosa succede Cosa fa Ma non hai detto Sta cosa Come no No Vabbè A parte questo Foto qua Che non era Neanche tanto grave Che non era Neanche tanto grave Vabbè anche tu Che cacchio guai Torno a casa Mi mamma Che affari tuole Trovo Ho dappertutto Foto di Nicole Ma questo Per mesi E mesi E mesi Cioè mi ricordo C'avevo anche mia mamma Non so se ti ricordi Avevo un cuscino Tipo blu Con la nostra foto Quello te l'avevo regalato Io per tipo Un anniversario Ah e lei ce l'aveva E io No E queste cose in giro Per la casa Ma non ci credo Ma veramente Te le lasciavo in giro Ti giuro Io lo volevo uccidere Questa cosa qui Ma no Vabbè È come È come Si metti il coltello Nella piaga Proprio Ma no Doveva nascondere E mettere via tutto No Forse dopo qualche anno Le ha tolte E dopo le ha rimesse Ce l'è ancora E così Le è più innamorata Di lei Che di me Avevo lì Cosa Sì Io vorrei tanto Che tua mamma Venisse a trovarmi Infatti spesso Volentieri Noi ci troviamo Troppo bene Poi sua mamma È giovane Più giovane Di mia mamma Quindi Non lo so Andiamo proprio d'accordo Infatti secondo me Quando Da bimbi Ci hanno scambiati Tuo mamma E tu con la mia Gatto Stellina Sta ancora preparando La sua fuga d'amore Con Neil Assolutamente sì Non l'avete sentita prima Non appena l'ha vista Impazzita E io conto appunto Di metterla Nella borsa Da viaggio Così quando Neil Arriva in aeroporto Apre la borsa E si ritrova Gatto Stellina Che gli fa Fantastico Perfetto Piano funziona Me ne accorgo Sono nato Se ne accorgono Quelli del security Perché pesano La valigia E si trova 10 kg in più Allora Altra domanda Cosa ne pensa Neil Dei tuoi ex Vedete la versione Unedited Allora Così in generale Nicole Per scegliere I finanziati Bocciata Cioè I primi Di me E tutti gli altri Dopo Quindi anche te Ti conosci Sì sì All'epoca Poi adesso sono Fior fior della mia Ah Quindi con me Con me Il peggio del peggio Poi invece Ah grazie 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 a te Grazie a te Ho visto i miei errori Ah pensa Vi fate conoscere I rispettivi ragazzi Ragazze Sì Però Non va bene Cosa non sopportate L'uno dell'altro Vabbè io l'ho già detto Non sopporto il fatto Che tu perdi E ti dimentichi Sempre Ah Mirvara come l'hai ricordato Questo è grazie a lei Perché voi sapete Ma io Io Prima di conoscere Nicole Era una persona Molto precisa Ma va a quel paese Se ti dimentichi Le cose Non è colpa mia Te le dimentichi In tutti i cinque anni Che non ci siamo sentiti Perché una volta Ero molto ordinato Mi l'ha perso Tutti in aia di cose In cinque anni Che non l'ho sentito Mai prima Mai prima Solamente da quando Ho conosciuto Nicole Vedete perché l'ho mollato Perché i suoi errori Dà la colpa a me Gli errori sono tuoi Dimmi se io Io non mi dimentico Le chiave Io non perdo il portafoglio È un problema tuo Quando mi hai conosciuto Era precisino Dimmi se di no Allora Eri ordinato Ma cosa c'entra Quello fatto che ti dimentichi Perché se è ordinato Non perdevo le cose Invece dopo Grazie a te Cioè io non potevo Da lì in poi ho cominciato A perdere i portafogli Ecco Per il mio bene Grazie Sei un amore Sei un amore Ti voglio bene Riusciresti a vivere insieme Con inquilini Ma neanche morta Beh ti toccherà Per 5-6 mesi Come non finisco No Bevi che ti passa Mi fa male Mi fa male la faccia Perché rido Neil ciao Come stai Bellissimo Che ridere Ma ci crede pure Che è bellissimo Oddio Sento scusate Mi sono ubriaca Oh Dio sto piangendo Dai bevi che mi vedi Anche te Bellissimo Dai smettila Smettile di amico Basta Allora Neil ciao Ciao di nuovo Neil ciao Come stai Come stai Bellissimo Hai una nuova Hai una nuova relazione Ehi ciao Bellissima Non ancora Vuoi essere tu la prossima Scusate Ah cercasi Ragazza Prefermente single Oddio Che poi non è il mio caso Ma va bene Non pazza Non un caso umano Perché di quelli purtroppo Entrambi abbiamo avuti Abbiamo avuto Le nostre Basta Single Che non è facile Il giorno d'oggi Eh Il giorno d'oggi Purtroppo Quindi non Neil è single Assolutamente Se siete interessati Contattatelo su whatsapp C'è sotto il numero Ah 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 Cercasi Ragazza Ragazzo Ormai Accettiamo tutto Single Scusatevi ma io sono Completamente ubriaca Sto piangendo Il mio trucco Se n'è andato A farsi benedire A mezz'ora Quindi questo è quanto Allora Siete rimasti amici Dopo la relazione Non vi siete parlati Per un periodo L'ora Ci siamo parlati Tipo per 5 anni 5 anni 5 anni Chi ha davvero preso La decisione Di lasciare l'altro Comunque siete adorabili Grazie Eh beh Neil Dovete sapere Che Neil Continuava a mollarmi Costantemente Io a piangere No ti prego Di mollarmi Ti prego No sto male Fino ad un certo punto Quel giorno Eravamo a Roma Lui mi ha mollata Per l'ennesima volta Karma is a bitch Ma è Esatto Bip Lui mi ha mollato Dovrò mettere 50.000 bip In questo video Lui mi ha mollato Per l'ennesima volta Solo che io Quel giorno Mi sono girate Le scatole Completamente E gli ho detto Ok ciao Ti ascolto E poi Da lì Basta E lì Poi lui si è pentito Mi faceva chiamare Dai suoi amici Cambia idea Ma Per una donna Una volta che è chiusa È chiusa Non fatelo mai Se avete ancora Un po' di orgoglio Tra l'altro Uno dei tuoi amici Che faceva finta Di chiamarmi Per convincermi A tornare con te Poi invece Volevo uscire con me E tu sai anche Chi è Sì lo so Quando ti tagli i capelli Scusa Ragazzi Gli taglierò io Nel prossimo video Non più Perché in questo video Nel prossimo video Spacco Invece qui con la luce Giusta E così simpatico Non possono dire Di no Sareste disposti A chiudere totalmente La vostra amicizia Per dei nuovi partner Spacco io Prima E dico Cioè Teoricamente sì Però praticamente no Perché Se tu Non accetti il fatto Che io abbia lui Come amico Vuol dire che non ti fidi di me E se non ti fidi di me Non possiamo stare assieme Perché la fiducia È la base di tutto Cioè se non ti fidi di me Perché ho lui come amico Non ti fidi di me Neanche perché magari un domani Vado a un evento A Los Angeles E incontro tanti buoni Quindi cioè No Per me Non No Condivido Perché è quello Che mi è successo L'ultima volta E Non volevo cambiare Cioè Nel senso Anche se c'era amore Anche se C'era passione Anche se l'intesa era Al cento per cento Forse anche di più Cambiare me stesso No Cioè O mi accetti Per quello che sono Ragazzi Questo mi sa che è tutto Abbiamo risposto A un sacco di domande La batteria è scarica Non abbiamo più niente da bere L'alcol è finito Noi adesso usciamo È giovedì sera Non è weekend Ma Usciremo a far serata Ugualmente Questo è quanto per il video di oggi Mi appena No Spero No Se vogliamo altri 10.000 like Per fare un altro video così Dai Che mi diverto Prossimo video Super alcolici Un altro Ask a question Per Nicole E a Neil Ma che ne abbiamo Per il prossimo Io devi tagli i capelli Lasciate un like Se volete che io taglio i capelli A Neil Quindi mia femmine Questo è quanto Guardate che carina che sono Potete dire di no Supprimetelo Vi prego Io mi guardo E dico Guarda che figo Che è quello io Dopo vedo Ah ma è Neil Ah sono io Scusa Questo è quanto per il video di oggi Mia femmine Io vi mando un bacio gigantesco Vi mando un abbraccio a distanza Perché con lui non è possibile Vi abbraccio Vi voglio bene Miri è completamente ubriaco Scusate Un bacio Ciao 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 Ciao